E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Allora, oggi racconterò la storia di la più grande pilota donna che ci siamo in stata nella Formula 1 Ed è italiana, qui si tratta di Lella Lombardi Che adesso scoprirete tutto con la storia, che è veramente una bella storia Una storia di tanti successi e tanti fallimenti Ma ha dimostrato che una donna può arrivare tra i primi 5 in Formula 1 E tanti non ci credono Ma adesso scoprirete la verità di Lella Lombardi Lella Lombardi, anagrafe Maria Grazia Lombardi, nasce il 26 marzo 1941 a Fugarolo, in provincia di Alessandria Appassionata di motori fin da ragazza, comincia a correre con i kart all'inizio degli anni 60 E per tutto il decennio ci si cimenta nelle categorie minori del motorsport Lella inizia a farsi notare nell'ambiente quando si aggiudica nel 1970 il campionato italiano di Formula 850 Ha l'opportunità di correre con le Formula 3 nella serie di colore E in quella britannica nel 1974 passa nelle F5000 Nello stesso anno debutta il mondiale sport prototipi A Van Dijk con una loia in coppia con Pino Picca e Ritirati E soprattutto in Formula 1 nel campionato italiano di Gran Bretagna Con una brava non qualificata Purtroppo non si è qualificata Lella Lombardi trova un salile per la marcia per il mondiale Formula 1 1975 E all'esordio con una nuova scuderia riesce a qualificarsi per il Gran Piano del Sudafrica Diventando la seconda donna della storia della Formula 1 18 anni dopo Maria Teresa de Phillips Che è stata una pilota della Formula 1 degli anni 60 A prendere il via di una gara iridata proprio Nel secondo appuntamento in Spagna In una corsa sospesa in seguito alla morte di diversi spettatori A caso di un alettone perso dalla hill del tedesco Rolf Stommelen E volato in mezzo alla folla Pitico era sopravvissuto La Lombardi si piazza in sesta posizione E diventa la prima, per il momento unica, pilota capace di conquistare i punti in Formula 1 Incredibile Nel 1966 la Lombardi debutta con un sedicesimo posto in Brasile In un gran premio nel quale Brambilla si ritira E a metà campionato passa la Brabant al Team Ram Non si qualifica in Gran Bretagna A differenza del compagno inglese Bob Evans In Germania con Stommelen sesto Mentre in Austria arriva dodicesima Facendo meglio del conquipiere svizzero Loris Kessel Per quanto riguarda l'endurance Segnaliamo invece il ventesimo posto alemanno Secondo nella classe GTP Con una Lancia Stratos In coppia con la transalpina Christine Dacremont Per tutta la stagione Lella Mi è sottopulinta del compagno in scuderia Vittorio Brambilla Ma più rapida del tedesco Hans Joachim Staclu Il Circus non è l'unico impegno della driver piemontese In coppia con la francese Marie-Claude Bémont Al volante di una Renault Alpine Debutta alla 24 ore di Le Mans E porta a casa un sesto posto Alla 1000 km del Mugello E una quarta piazza Alla 1000 km di Monza Lella lascia la Formula 1 Ma continua a gareggiare in altre categorie Nel 1967 Arriva terza Alla 250 km di Imola Con Osella in coppia Con Giovanna Anzeloni Gareggia a Daytona In una tappa della Nascar Con la Chebolè Mi muovia male Andando a punti Con un 31ismo posto Mentre l'anno seguente Sempre con la Osella Conquista la 6 ore di Percusa Che è una corsa che si fa Alla Pricinosa Percusa sta in Sicilia Insieme a Enrico Di Maldi La 6 ore di Valle Lunga Con Giorgio Francia E arriva terza Nel campionato In terza serie Divisione 2 Lella Lombardi Gareggia per l'ultima volta Aleman Nel 1980 Con una Osella in coppia Con il britannico Marc Tartker Figlio di Margare E l'anno successivo Insieme a Francia Sale Sul giardino Attuazzo del podio Della 6 ore del Mugello E ottiene L'ultimo piazzamento In top 3 In carriera Portando a casa Il secondo posto Alla 6 ore di Percusa Lella disputa Tui gare Del campionato Turismo tedesco Di TM A Hockenheim Nel 1984 Al volante Di un Alfa Romero GTV6 Tanta roba E appende il casco al chiodo Pochi anni dopo Purtroppo Scompare Muore Il 3 marzo 1992 A Milano A causa Di un tumore al fegato Purtroppo Lecce ha lasciati Va beh Fa niente Ormai sarà in un posto migliore Sarà da Dio in paradiso Quindi Niente cose tragiche Ok spero tanto Che questa storia Vi sia piaciuta Io questa storia L'ho fatta Perché Oggi È la festa delle donne E io A tutte le ragazze Tutte le donne Tutte le anziane Vi faccio I miei Tanti auguri Ok spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto E salve a tutti ragazzi Ciao Auguri di nuovo Per le donne Grazie a tutti